Ciao creatura, io sono Lecate Splendente e benvenuta, bentornata nel regno di Kuzai, E, S, M, A. Eccoci qui con un altro video dei volantini perché so che ti piacciono tanto e ho anche la mia spremuta d'arancia che mi sono fatta questa mattina, un po' l'ho bevuta, un po' la beviamo insieme perché è bello sorseggiarla qui con te. Ho qui due volantini, uno dal 22.11 al 28.11. Sì, lo so che questo, diciamo, è scaduto, ma in realtà lo porto, anche se sembro in risardo, perché spesso nel mio Lidl, diciamo, nel Lidl dove vado io, nel mio paese, trovo cose delle settimane passate, quindi lo vediamo insieme perché potrebbe esserci qualcosa che c'è qui e anche qualcosa di questo volantino che è del 29.11 al 5.12. Quindi dal 29.11 al 5.12. Andiamo a vedere prima quello del 22, dal 22 al 28.11. Beviamo un po' di succo d'arancia, anzi spremuta d'arancia, ma sì, il succo d'arancia. Ah, bella aspra, anche non aggiungo zucchero, nient'altro, mi piace così naturale. Se mi segui su Instagram saprai che ho questa nuova passione per la pasta ripiena e a Lidl ne trovo di tanti tipi e man mano che la trovo la compro e me la mangio, giustamente. Questi sono tortelloni, fontina e spinaci o saccottini al tartufo. Tu pensai quanto non amo il tartufo e quando si avvicina il Natale, Lidl butta tutta fuori roba col tartufo, quindi boicottiamo il tartufo. Non scherzo, mangiatelo pure, non lo faccio, sto solo scherzando, eh. Allora, qui c'è un battuto di olive, leccino, a 1,11 euro, e queste erano a 0,75. Se ti stai chiedendo se ho provato questi, no, non li ho provati, penso di non averli proprio trovati, o forse no, le c'erano. C'erano, ma con gli spinaci non è che mi piacciono tantissimo. C'è il santo di mare a 2,99 euro e questo dessert a 1,99 euro. Il dessert ha scelto tra diversi gusti. Vediamo qui cosa c'è di interessante. Allora, c'è la mortadella al tartufo, no, non è interessante, è 1,49 euro. Salame con tartufo, 1,79 euro. Salame di cinghiale al pepe, 4,29 euro. Formaggio alla birra, oh, alla birra, 2,99 euro, non li ho visti queste cose. Pecorino stagionato al miele o alla pera, 18,99 euro, sono le novità. Salsi e senapati, di papaya, mango e ananas, queste fanno voglia, 1,99 euro. Da gustare con carni e formaggi, wow. Burrata con latte di bufala, 1,49 euro, questo sì che fa voglia. Poi, focaccia con salmone, mozzarella e stracciatella di burrata, wow, questo non c'era. 1,99 euro, carpaccio di funghi porcini a fette, 4,99 euro, i carciofi grigliati con arance candite, non mi fanno voglia, perché non mi piacciono i carciofi. Poi, pizza bianca con salsa, il tartufo nero, il prosciutto cotto, 2,49 euro, sorvoliamo. Ragù alla norcina, 1,99 euro, ragù di fassona di razza piemontese, 2,79 euro, funghi porcini interi, 4,99 euro. Chico, chicco, chicco, chicco di capra, chicco, chicco, chicco di capra, 0,49 euro, yogurt al miele italiano e papa reale, che deve essere buono questo, 0,79 euro, crema gianduio fondente, 1,79 euro, tirami su con savoiardi, con uova da galline allevate a terra, 0,99 euro, questo è una voglia. Suffle al cioccolato, con ripieno all'arancia, 2,19 euro, wow, ma io queste cose non le ho viste, panettone con crema al mascarbone e frutti di bosco, 5,79 euro, ecco, per esempio, queste erano taloni di 22, ma io non le ho mai trovate, ma, vabbè, forse quando sono andata io erano già finiti, o non sono arrivati. Può essere che qualcosa non arrivi nel nostro Lidl, di fiducia, di fiducia, trotta, affumicato e marinato, 7,99 euro, poi qua mi dice, scopri la ricetta nella brochure di Natale, quella brochure, io la devo avere. Vettuccine al nero di seppia, 1,99 euro, insalata di mare, 2,49 euro, salmone affumicato norvegese, novità, 3,49 euro, carpaccio di pulpo, 3,49 euro, queste le ho prese, devo ancora assaggiarle. Lunetta al nero di seppia, colpino al salmone, 1,39 euro, devo ancora assaggiarle, ma le ho prese, attenzione, polpi indo-pacifici, 3,99 euro, che voglia? Che voglia? In salsa addirittura. Poi, lenticchie di Altamure GP, 1,49 euro, non mi piacciono le lenticchie, medaglioni ripiene ai funghi tardufo, niente, 1,59 euro. Gnocchi con limone e zedro, li ho visti, ecco questi sono una novità, erano dal lunedì 22 novembre, invece li ho trovati tipo il 27, no il 26, no piano, vabbè insomma uno di questi due giorni. E il 28, cioè, io ho i numeri anche a te, il 28 li ho trovati, e quindi è giusto guardare tutti i due i cataloghi, sì, ha senso ciò che sto facendo, ma lo avrebbe avuto comunque perché la divinità non sbaglia mai. Poi, i mini sformati di patate con tartufo nero estivo, vabbè, 3,99 euro, non guardo neanche. Il sal gemma, 3,99 euro, crema di lardo di suino nero di Calabria, what the fuck, 1,99 euro, no questo non mi ispira proprio, honestly non mi ispira. Poi, ci sono questi facottini di pasta sfoglia, diversi ripieni a scelta, a 2,49 euro, qua ci dice con pomodoro e mozzarella, con pancetta fumicata, con salmone, senape e anito, e con mix di verdure, prenderei mix di verdure al momento quello che mi fa più voglia. Poi, questi triangolini di pasta sfoglia, per esempio, li ho trovati ieri, ce li ho trovati il 28, quindi, ok, sono nuovi, 1,19 euro, però, honestly, onestamente, preferirei farmeli in casa io, anche perché i gusti sono emmental, formaggio emmental e aglio, rosmarino e sale, marino, e pesto rosso e cheddar, i gusti non è che mi appassionino particolarmente. Poi abbiamo questi spedini di verdure grigliate a 2,99 euro, che questo dice che è una novità, che sono una novità. Andiamo sulle cose dolci. Allora, la crema di marroni a 2,29 euro, i pasticcini morbidi alle mandorle o alle mandorle e ai pistacchi, non voglia, 2,19 euro, dessert, yogurt e quark, a 1,49 euro, gelato o sorpreso, sorbetto, gelato variegato al cioccolato o sorbetto ai frutti di bosco e vaniglia, 3,29 euro, crema spalmabile al pistacchio, 2,99 euro, non credo di averle visti, torrone morbido a forma di sigaro, non li ho visti, 1,49 euro, questi li ho visti, fette di torrone tenero, 4,49 euro, fanno un sacco voglia, anche questi. Poi, specialità spalmabile, questa l'ho vista, 1,49 euro, e poi, torroncini teneri, anche questi li ho visti, 2,99 euro, arachidi, noccioli o mandorle pralinate, non li ho visti, 2,19 euro. Aspetta, aspetta che per un altro goccetto, goccetto. Quasi è finito, e poi, tiramisù super fresco al cioccolato, 2,99 euro, questo l'ho visto, questo l'ho visto anche. Onestamente, questo mi faceva voglia, pandoro, panna e cioccolato, 4,49 euro, anche perché questo packaging nero è troppo bello, quindi è super elegante, cioè, bello, bello, mi piace, mi attira tantissimo. Poi, c'è questo liquore, con panna e whisky, al caramello salato, che è di Paul Belis, però la versione deluxe, del Lidl, a 5,99 euro. Panettone con crema al pistacchio, non l'ho visto, ma mi fa voglia, in questo momento, a 5,49 euro. Poi, questi non li guardiamo neanche, anche se ci sono, tipo, dei cofani di regalo, però, diciamo, interessa la roba più, che queste cose sono della Kinder o così così, Granapadano, le trovi anche nei supermercati qualsiasi, io penso. Ho visto che c'erano alcune cose della Vitasia, però ho trovato veramente poche cose, adesso vedo che era dal 25 novembre che c'erano e mi sono ricomprata questi ravioli, che non stai vedendo, questi qua, me li sono ricomprati. Aspetta che tolgo la... ho questa candela di Yankee Candle, che c'è una vita, l'ho quasi finita, un po' mi dispiace, quasi, e ce n'è ancora un po', un culetto, così. Ed è questa qui, Autumn Glue, che ha un profumo indescrivibile, è, tipo, buonissimo, sì, è, tipo, sprucciacchiata, non lo so, come sia successo, ma credo sia solo sporca, come di fuligine. Me la sto facendo durare da anni e ha un profumo che è veramente ottimo, perché era lì, mi piaceva averla lì, però mi impicciava con l'uolantino. Mi dava fastidio. Allora, è tutto storto, molto abbastanza, finisco la mia lanciata. Buona, buona, me ne sono proprio gustata. Allora, dicevamo di questi ravioli qua, quelli salmone avvocato, sono buonissimi, appena li ho visti, li ho ricomprati, un euro e 49, sono una confezione. Io li faccio alla piastra, buoni, 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 sono molto saporiti. E qui invece vedo, ma guardiamo lo stesso, anche se avete anche queste, ce ne siamo state proprio poche, o sono già finite, non so. Allora, non so perché dice chiudi gli occhi, gusta la cucina stile orientale, perché devo chiudere gli occhi per immaginarmi di essere in paesi asiatici, non so. Non ho capito questa frase, ma questi fanno voglia, ma mi sa che li ho già mangiati io, penso di averli già mangiati, specialità asiatica, perché cambiano magari il packaging e sembra una cosa nuova. Ma, sì, penso di averli mangiati qui, sì, sono buoni anche questi. Sì. Le damame, no, non le ho proprio visti. Ho visto questi risotti qua, che però, boh, non li comprerai mai, cioè, sono talmente facili da fare in casa che non ha senso comprarli così confezionati già pronti. 079, poi credo che siano anche beni di conservanti questi, preparati qua, quindi, sono liofilizzati, se non sbaglio. C'è riso alla cantonese o all'indiana, però alla cantonese, cioè, ci sono tre ingredienti dentro, c'è bisogno di comprarli liofilizzati? Io penso di no, poi, non lo so, per le persone che non sanno proprio fare niente, e, ho visto che di questa marca, comunque, Lidl, ha tanti tipi di pasta, risotti, io li ho assaggiati per curiosità. Non sono neanche malissimo, cioè, sono mangiabili, anche, ho trovato abbastanza buone e veloci le zuppe. Proprio di filizzate, mi sembrano le cose tipo da, non lo so, probabilmente, se ci fosse un'apocalisse zombie, mangeremo tutti questi molto volentieri, o qualsiasi altra apocalisse. Foglie di riso per i voltini primavera, queste non le ho viste, se no li prendevo. E poi, questo non le ho viste, selezioni di antipasti asiatici con salsa tip, non le ho viste, questi vanno a gole, accidenti. 4,49 euro, wow, faccivano molta voglia questi, vabbè, pazienza, non c'erano, non ce ne le ho proprio viste. Io do un noodle, a 0,79, il riso, la cantonessa, spaghetti di soia, questi sono già fatti. 1,99 euro, i ravioli con carne, i voltini primavera, anche questi mi fanno voglia, li avrei presi, sì, 1,99 euro, li ho trovati, no. E quindi, qua c'erano dei guaglioni di Natale, ma solo per bimbi, cos'è questa discriminazione che io non volevo. Qua ci sono dei giochi, non ci interessano. Io sto aspettando la stella di Natale mini che ho visto nell'altro Deplian, a 1,99, spero di trovarla. Ah, poi ho visto queste lampade orribili, non mi piacciono, lampade decorativi, vabbè, io avrò dei gusti strani, ma anche Lidl, non scherzo. Adesso andiamo a vedere le offerte valide dal 29 novembre al 5 dicembre, quindi adesso ci siamo dentro perfettamente. Anche se in realtà io ho trovato alcune cose dell'altro, e quindi, ma, patè di funghi, porcini e melanzane, 1,49 euro, gnocchi ripieni con radicchio e scamozzo, Allora, sto tartufo, guardate, maleducato, 1,19 euro, 1,11 euro. Creme brulee a 1,29 euro, sformatino di patate a 2,29 euro. Se sbaglio qualche prezzo, a dire qualche numero, oggi do i numeri, quindi segnatevi lì e giocatevi lì. No scherzo, vedo già delle cose interessanti, dove vendo un po' di acqua perché devo bere, è una cosa che mi dimentico di fare, non va bene. Se anche tu ti dimentichi di bere, mettimi un like. Queste cose non mi ispirano, non mi ispirano queste cose. Quindi, oh no, cosa sta succedendo? Sì, cosa starda? Allora, le robe sopra non le guardiamo perché non mi interessano. Poi, pappartelle ripieni all'astice, questi li ho visti, 1,99 euro. Vabbè, grano padano, però cotto con tartufo, non guardo neanche qua, non c'è, mi sta proprio antipatico. Poi, qui abbiamo, salmone, affumicato, norvegis, al whisky, però, 1,99 euro, buttarg buona, di mucine intera, 6,50 euro, io odoro la buttarg, buonissima. Prosciutto fumé, affumicato con legno di faccio, 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 1,99 euro. Però, dall'aspetto, onestamente, non mi fa voglia. Lunette, gli scampi, i camperetti, le ho assaggiati, queste. 1,49 euro. Devo dire la verità, non sanno né di scampi, né di camperetti, quindi... Poi, a 1,19 euro ci sono i ravioli con pecorino, ricotta e miele. Le ho visti, non le ho presi, però fanno voglia. Queste cose erano, vedi, queste erano dal 29 e io le avevo già viste, perché viaggio nel tempo, no? Perché, secondo me, le cose arrivano un po' prima, che, non so, non so bene come funzioni, ma arrivano prima. Poi ci sono questi, che non so leggere il nome, quindi non lo leggo, per non dire cavolate, ma sono ai funghi porcini, patate e piccolino. A 1,99 euro, le ho prese e devo assaggiarle. Queste, novità, che queste novità, ma queste le volevo e non le ho trovate. Cioè, le volevo adesso, quando le ho letto, ma non c'erano. Panzerotti con baccalà mantecato, io adoro il baccalà mantecato, a 1,99 euro. E poi c'è questo condimento a base di aceto balsamico e miele, a 2,49 euro, non l'ho visto. Allora, mousse al formaggio fresco, a 1,39 euro. A 1,39 euro, fa voglia? Sì, però è al tartufo. Beh, aspetta, con gamberetti, tartufo e questo cos'è? Pomodoro e cipolle, ho urtato con la testa, la videocamera, ho fatto un casino. Poi ci sono i domini in olio al tartufo, uffa, 2,49 euro. Quando ho letto il domini ho detto, wow, domini, dopo. In olio al tartufo, delusione. Massancole tropicali, a 11,99 euro. Olive verdi con feta top, 2,49 euro. Olio di oliva aromatizzato al tartufo bianco, 2,99 euro. Poi il pandoro al limone, che non stai vedendo. Pandoro al limone, l'ho visto, 3,69 euro, fa voglia. Panettone con pere e cioccolato, l'ho visto, fa voglia, 5,99 euro. Specialità di avvichi con mandorle o di datteri con noci, 1,99 euro. No, la frutta secca non mi fa impazzire, come altre cose. Selezione di mini torte, wow, questo non l'ho visto. 3,99 euro. Biscotti ricoperti di cioccolato, 1,49 euro. Torrone morbido con mirtilli, io duro il torrone morbido, 1,99 euro. Torrota gelato con pezzetti di panettone, l'ho voglia, un ciclo di verla visto, questo. 3,79 euro. Arance candite, ricoperte di cioccolato fondente. No, non mi fanno voglia in realtà, 1,99 euro. Spumone tradizionale. Cos'è lo spumone? Non so cosa sia. È fortuna che è tradizionale pure. 2,99 euro. Questo lo voglio, questo devo averlo. Giovedì 2 dicembre, devo assolutamente andare a prendermelo. Tordine al cioccolato, arancia o lampone, 1,99 euro. Questo è Selezione di tè ed infusi in confezione regalo, 3,49 euro. Ce ne sono 24, quindi è tipo un calendario dell'avvento nella mia testa. Quindi lo voglio avere. Poi, sì, ci sono i tè, lo so, i tè li diamo un'altra, li do a una persona e gli infusi mi li bevo io. Che non posso dire né chi è. Poi, c'è se era al cioccolato o al limone. Al cioccolato o al limone. Questi li ho già visti, sì. Credo di aver mangiato anche quelli no al limone. E non era niente male. 2,49 euro. Qua poi c'è il Deplian della favorina. Perché la maggior parte dei dolci che ha Lidl sono di favorina. Questo è il brand, diciamo, l'azienda. Calza natalistica con cioccolato. Cioccolatini al latte, bastoncini di cioccolato natalisti, dolcetti di cioccolato. Con doppio ripieno, ma stiamo scherzando? Io non l'ho visti, quelli. Poi c'è sacchetto natalizio, tartufi al cioccolato. Che non hanno niente che fa il coltello tuo, ma mini cioccolatini, monete di cioccolato. Credo che sia buono comunque il cioccolato del Lidl. Non è il classico cioccolato tipo Scraus di alcuni calendari dell'avvento. Ci sono questi donut ricoperti, che sono molto carini. Sì, certo, ecco, dei carini. No, buoni, carini, certo. Vabbè, qua non ci interessa. Io penso. Beh, queste magari potrebbero essere interessanti per qualcuno. Allora, c'è, sono in offerta questa pallina Ferreros Rocher, quindi immagino che dentro sia piena di Ferreros Rocher. Si spera, perché sennò non avrebbe senso. 2,89 euro. Poi c'è questa strinata lì, all'interno, all'interno, delizia e natalizia, delizia e natalizia. Cioè, ma come mi è venuta questa, questa seta? 14,90 euro. Il cesto natalizio, Gran Gourmet, del parmigiano reggiano, 14,99 euro. Io penso che quando non si sa cosa regalare, regalare il cibo è sempre un'ottima idea. Perché il cibo piace a tutti e tutti mangiamo. Poi, Kinder Sorpresa, 3,99 euro. Figure di cioccolato, a 2,49 euro. Questo cesto natalizio salato. Ma credo che anche l'Ital abbia fatto dei suoi cesti natalizi. Con i prodotti deluxe, se non sbaglio. Correggimi se sbaglio. Vabbè, i Ferrero Roche e queste cose qua. Che puoi comunque comprare e mettere tu in un cesto, però con 8 euro. Scusami, con Do. Facciamola alla larga, 10 euro. Hai già un cesto natalizio già pronto, ecco. Con un po' di tutto. Beh, scusami, ma... Quanto è bella sta confezione, cioè io me la comprerei solo per la scatola. Biscotti e Ra Vintage. Ma ci sono i biscotti dentro, però? Penso di sì. 6,49 euro, non sono sicura che ci siano. Sì, ci sono nove lini, ok. Tartuffi, Don Dujotto, vabbè, insomma queste cose qua non ci interessano. No, no, belle anche le confessioni regali. Queste birre che hanno messo in offerta, in realtà ci sono sempre, ma sono IPA. E... Mi piacciono le lattine, sono stimp anche molto belle. Che mi piacciono un sacco, però in realtà le ho assaggiate e a me non piacciono tanto come birra. Però ognuno è sui gusti, ovviamente. Poi... Vediamo un po'. Sono cose un po' di cartoleria, ma anche no. Poi ci sono... Ah, questi potrebbero essere dei bei regali per dei bambini, bambini, bambine, ovviamente. Sono questi libri per bambini, libro creativo e libro da colorare, anzi l'album da colorare con sticker. Bello questo, se fossi piccola, questo mi piacerebbe molto. Anche questi, libro creativo, non so cosa ti facciano fare, se erano dei giochi, non so. C'è l'essicatore per alimenti e altri utensili da cucina. La macchina per il pane che sempre ha lì del... Sempre c'è la famosa macchina per il pane che ce l'ha, una delle mie zie ce l'ha. Poi ci sono queste cose, queste palline natalizie, queste che con quel riflesso lì non sembrano palline, ma sembrano tipo quei campanelli. Credo sia il riflesso però, non credo abbiano quella... Deve essere un riflesso di quando hanno fatto la foto, penso io. Poi... Questi tipo paesaggi natalisti alla Chiara d'Alessandro. È vero, lei ha tutte queste cose qui in casa, quindi mi fanno pensare a lei. E poi... Queste sarebbero da provare, chissà se sono buone, non credo siano buone come le Yankee Candle. Queste, candela profumata in vasetto con coperchio, credo siano anche più piccole. Dove erano 99. Allora, le profumazioni sono... Vaniglia e zucchero, poi... Albero di Natale, che profuma l'albero di Natale? Vabbè. Mela e cannella e questa, pacche invernali. Allora, io vorrei annusare l'albero di Natale e le pacche... Questi qua sono banalini, eh. Va bene, questo con la cannella ricorda magari più a Natale. I biscotti speziati, cose del genere. Vaniglia e zucchero, è banalissima. E quindi vorrei annusare questi due per capire che profumazione ha. Soprattutto l'albero di Natale, che profuma ha da pino. Non lo so. Che magari è un banalissimo profumo di pino, però albero di Natale fa più... Schiaffaci sopra un albero di Natale fotografato. Ed è una candela di Natale, giustamente. Marketing. Poi ci sono queste tente o rete luminosa a led. E le luci natalizie, vabbè, sono finte. Sono candele finte. Non c'è neanche una tovaglia di Natale, io volevo una tovaglia di Natale. Neanche dei tagli a biscotti di Natale, io volevo i tagli a biscotti di Natale. Ma niente, le cose che piacciono a me non vanno più di moda. Sono troppo vecchia. Sono ancora di un'epoca passata. Vabbè. Ecco, questa vorrei se la trovo. Da quando? Da lunedì 29. Eh. Se non c'è finite. Vabbè. Mini stella di Natale. A 0,99. Io sto girando il video oggi, è il 29, però immagino che se non c'è finite. Ci vado oggi pomeriggio a vedere se la trovo. Mini stella di Natale a 0,99. Mi sembra molto bello. Cactus sullo skateboard di Natale. Cactus di Natale, ma cos'è il cactus di Natale? Cioè, perché hai fiori rossi? Puoi mi far ridere? Cactus di Natale. Adesso qualsiasi roba di Natale. E te la vendono. Vabbè. Altri fiori. E questi anche sono carini. Ce l'avevo l'anno scorso. Poi l'ho piantato in campagna. E non so più che fine abbia fatto, onestamente. Ciacinto in vaso. Ho preso il pulpo, poi mi aveva fatto il fiore. Ma l'ho piantato appunto in campagna. Non so se è ancora vivo, se è sopravvissuto. L'avevo messo tipo sotto una pianta. Secondo me qualcuno l'ha tagliato. Ho fatto una brutta fine, non lo so. Dovrei cercarlo. Ma forse c'è troppo freddo. E non ho più fiorito. E poi ci sono, vabbè. Questi fiorelli di Natale. Potevano aggiungerlo. Vabbè. Questa è la versione uguale a questo. Solo che qua ci hanno messo le palline. Che non sia più piccolo. Sì, per quello costa meno. Pensavo che mettessero le palline e lo aumentassero di prezzo. Perché cioè è già decorato. Queste chirlande sono molto belle. Ma 9,99 euro per una chirlanda anche no. E basta. Non mi fa voglia nient'altro da vedere. Sì, dai, queste stelle di Natale però sono un po' scolorite. No, non mi ispirano particolarmente. Quelle orchidee sono molto carine in basso. Ti vedo. 1,99 euro. Ma il cax sono skateboard di Natale. È il pezzo forte. E basta. Beh, spero che questo video oltre a rilassarti e ti abbia fatto anche sorridere e divertire ti abbia intrattenuto in questa serata fretta, fretta, fretta di dicembre. Io ti auguro buonanotte, buon relax, ciao creatura. Ura Ura